Zoom all'attacco di Google, Facebook attiva l'alert dei gruppi e Zuckerberg è tra le persone più pericolose di internet. E allora iniziamo proprio da qui. Ebbene sì, è stato insieme a Trump e i gruppi di estrema destra decretato da Wired come tra le persone più pericolose su internet per la diffusione delle fake news, per non essere riuscito a fermarle, e Facebook è considerato come il maggior diffusore. Non solo perché non è riuscito, perché ovviamente anche Twitter e YouTube hanno fatto delle cose, ma anche per le dichiarazioni proprio sue, personali, sulla verità, che sono un po' contraddittorie. Ora, sono passati dieci anni da quando finì sul Times come tra le persone più influenti, quando era il salvatore della patria. Io sono tanti anni che dico e che porto, vi ho rotto anche le scatole e credo che non lo farò più, voglio occuparmi solo, mi sono rotto le scatole di arrabbiarmi su alcune cose. Come Facebook sia l'ambiente più incredibile per le fake news, ne parlo da quando è aperta Fast Forward, e di come sia l'ambiente ideale per far portare l'odio. E quindi credo che Mark Elliott Zuckerberg non sia proprio contento di essere passato dal salvatore della patria a quello da mettere sul patibolo. Ora, io non concordo sul fare questa cosa, non concordo nel mettere proprio dal bianco al nero, passare così. Ci sono tante scale di grigi, ci sono tanti colori in mezzo. Non è bello vedere queste cose, perché ce ne potevamo accorgere anche prima che c'era qualcosa che non andava, ora stiamo mettendo le pezze. A me questa cosa non piace tantissimo, ma Facebook è sotto accusa, ed è sotto bersaglio, lo stanno bombardando su tante cose. Ora, cose negative ce ne sono, tantissime, ci sono anche le cose positive. Non dimentichiamo mai questa cosa, non dimentichiamo mai di vedere anche le cose positive, mi raccomando, è sempre importante. Una delle cose che sta accadendo fortissima, e io sono veramente contento, è il fatto che Facebook sta lasciando l'Irlanda come paradiso fiscale e sta riportando tutto in America. Stanno facendo un po' di pressione, al di là della cosa sulla concorrenza, eccetera, eccetera, anche sulla parte fiscale. Ebbene sì, perché diciamo che sono due i modi che hanno portato le grandi aziende a crescere. O la parte fiscale, con poi poter investire questi soldi per crescere e fermare anche la concorrenza, oppure a girare le leggi. Allora, sulla parte fiscale lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo ora, in questo momento, stanno ritirando i 15 miliardi che hanno, praticamente, che hanno fatturato, hanno pagato le tasse tipo 100 milioni. Una cosa assurda, ci pensate in Italia, fatturi tipo 15 miliardi paghi 100 milioni, quando fatturi 100 mila euro quanto paghi. Cioè, è incredibile, no? Questa cosa. Però Facebook lo sta facendo, perché? Perché dagli Stati Uniti gli hanno detto, sai quanto ci devi di tasse? 9 miliardi. Forse è il caso che ci accordiamo, forse è il caso che porti tutto all'interno dell'America. Questa cosa che sta avvenendo a Facebook, attenzione, guardiamola con occhio. L'altra cosa, abbiamo detto, è a girare le leggi. In Italia, TikTok, il garante della privacy, sta iniziando a rompere le scatole, perché gli sta dicendo, guardate che voi non state proteggendo la privacy dei ragazzi. E attenzione a questa cosa, perché, vi dico a girare la legge, a YouTube, quanto gli hanno rotto le scatole per il sistema Coppa? Un sacco, quante multe. Sapete che cosa accade? Che il garante gli dice, guardate, TikTok è molto facile registrarsi, non c'è una vera verifica, il profilo è subito pubblico. Sono le basi di internet, sono le basi della legge Coppa, sono proprio le basi. Loro hanno girato qualsiasi cosa. E infatti, il delirio. Anche qui, TikTok, ci sono delle cose molto positive, ci sono delle cose molto negative. Quindi, è importante questa cosa. Le grandi aziende sono sotto mira da tutti e stiamo cercando di capire come far evolvere internet al meglio, per un internet migliore. Una cosa molto utile per un internet migliore è quella che stanno facendo i dipendenti di Google. Non so se lo sapete, nella notizia di ieri, è nata l'unione dei dipendenti, dei lavoratori di Google, e la prima cosa della quale si vogliono occupare è l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito militare. Che cosa stai facendo, Google? E insomma, i dipendenti stanno iniziando a fare pressione. Non solo questo, anche su tutto quello che riguarda l'odio, su tutto quello che riguarda... Vi ricordate la faccenda, del fatto degli algoritmi che sono razzisti? Tutti questi argomenti qua stanno diventando molto molto importanti. Però ricordiamocelo sempre, non è tutto negativo. C'è queste aziende, queste persone, non possono passare dall'oggi al domani ed essere bianche e poi diventare nere. C'è la scala di colore, c'è la scala di colore nelle cose. Da tanto tempo, stiamo parlando qui su Fast Forward, qualcuno sta iniziando a svegliarsi bene. Questo era l'anno in cui si sveglieranno tanti. Vi mostro una cosa molto positiva. È Google che ha fatto Look to Speak, un'app, un esperimento, che praticamente con lo sguardo riesci a dire delle frasi preimpostate, riesci a dare dei comandi. Guardate quanto è bella l'applicazione di queste cose qua. Secondo me è molto interessante e non possiamo non tenerne conto. Ma passiamo alla prossima parte del nostro telegiornale. SEO, la parte SEO. Il nostro TG chiuderà con una parte dedicata a un approfondimento, alle tendenze e alla SEO. Molto importante per tutti. Ma poi sapete che chiude con la nerdata della settimana. Ecco, avrei voluto inventare anche la porcata della settimana, ma non vorrei, diciamo, mettere troppa roba su Fast Forward. Google ha uno slider in test chiamato Short Video. E all'interno di questi Short Video di solito ci aveva messo YouTube. Ora incominciano ad apparire oltre gli Short Video di YouTube. Questo era del 3 novembre. E notizia di, praticamente settimana scorsa, anche TikTok e altre realtà. Dove cavolo è il contesto? Cioè una volta Google era quel motore di ricerca dove tu cercavi qualcosa e loro tentavano di non farti ridere per i risultati stupidi che si proponevano all'epoca. Ma dov'è il contesto? Questi Short Video sono pericolosissimi. Sono pericolosissimi. Avete mai visti gli Short Video? Io sto facendo dei test, poi ve ne parlerò nel nuovo canale che aprirò qui su YouTube. Ve ne parlo in live il 12 alle 18, trovate tutto nella descrizione. E beh, cavolo, ma guardate che gli Short vanno scelti a mano, altro che algoritmo. Perché altrimenti se vai con l'algoritmo a valutare il tempo di visione, l'engagement, ti becchi degli Short stupidissimi. Attenzione, alcuni, anzi tanti all'interno di alcuni ambienti sociali sono offensivi. Quindi è pericolosa questa cosa. E il contesto dove Google, per cercare di fare il mostro mangia tutto, che siamo detti un'altra volta, vuole posizionare i suoi Short allo stesso livello di TikTok mettendoli insieme per dire a tutte le persone che usano Google, ci siamo anche noi. Ma il contesto non esiste, è proprio, è sparito. E secondo me è una porcata. Quindi, attenzione, quello che voglio dirvi da questo punto di vista, sia per quanto riguarda gli Shorts, sia per quanto riguarda le Web Stories, calma, c'è stato un articolo sulle Web Stories di Worldlift che è stato molto condiviso, come abbiamo aumentato il traffico, eccetera, eccetera. E io vorrei dire sì, grazie, Graziella, famosissima, grazie Graziella, perché se tu fai degli articoli con i titoli un po' clickbait che finiscono poi nel Google Discovery, eccetera, eccetera, e aumenti il traffico andando a creare nuove risorse, roba varie, segui le tendenze. Forse si poteva fare anche senza le Web Stories, bastava con gli articoli. Però bisogna stare attenti, cioè, calma, allora, internet non è più quel luogo dove chi arriva prima vince, non è più così, perché c'è l'advertising per promuovere le cose che funzionano. Quindi prima cerchiamo di capire le cose che funzionano e poi se proprio vogliamo prenderci una fetta di mercato ci mettiamo dei soldi se siamo arrivati tardi. Quindi è importante questa cosa da capire come consulenti, sia per quanto riguarda le agenzie che per quanto riguarda i freelance. Ma tutto questo ci porta al discorso che nei risultati di ricerca non c'è più la meritocrazia. E vi voglio portare questa discussione di Giovanni Sacchelli su connect.gt ve la consiglio. Ci sono due discussioni che voglio consigliarvi. Una è questa sulla meritocrazia, andate a leggerla. E quando avete tempo leggetevi anche questa. Non insegnate la SEO come le parole crociate. Non sapete come fare, smettete di farlo. Una forte provocazione per tutte quelle che sono le parole. Ci sono un sacco di professionisti che hanno messo i loro articoli, i loro modelli, le loro idee. E stiamo arrivando a delle buone conclusioni sulla scrittura, sulla SEO e roba vera. Secondo me è merita di essere letta. Ma vorrei chiudere la parte SEO con questa, che nella notizia bomba, che vi consiglio di approfondire, Google ha lanciato oggi, ieri, praticamente, Question Hub, solo negli Stati Uniti. Praticamente, guardate che cosa fa. E secondo me è interessante da approfondire. Guardate cosa fa. Praticamente, quando voi cercate qualcosa su Google, non sempre hanno delle risposte. E allora Google vi chiede di fare Submit and Answer, cioè andare a mettere la vostra risposta con un URL. Guardate lì, con tutte le statistiche. Cioè, una roba pazzesca. È l'inserimento editoriale di una risposta. Questo potrebbe diventare veramente importante. Bisogna aggiornarsi, bisogna andare a leggerlo, bisogna andare a approfondire. È una di quelle cose che, se prende piede, come ha preso piede Google Discover, non ha la stessa portata, però potrebbe avere un'importanza forte. Quindi, da un punto di vista della consulenza, può cambiare un po' la percezione. E per quanto riguarda i grandi cambiamenti della consulenza in ambito Google, giovedì ne parliamo. C'è un video apposito. Però è arrivato il momento di entrare nella terza parte. Parliamo di immagini. Esatto, immagini. Prima di finire nella parte sociale, le immagini sono importanti. Vi voglio segnalare alcune risorse. Maria Chiara Marsella su LinkedIn ha riportato le 12 parole chiave in tendenza in Italia per il 2021, fatto da Pinterest. Bellissimo. Pinterest ha fatto tutta una serie di indagini e ci sono 10 categorie, viaggi e benessere, bellezza, eccetera, eccetera, dove sono indicate le parole chiave di tendenza e i paesi. E Maria Chiara ci ha portato quelle per l'Italia. Vi consiglio di leggerlo perché è veramente bello per chi si occupa di moda, di viaggi, qualsiasi cosa, anche... Cioè, non vi interessa solo Pinterest qua. Anche se non avete Pinterest, vi riguarda, perché riguarda il comportamento delle persone. Studiatele e approfonditelo. L'altra cosa che voglio segnalarvi è che Emojipedia ha fatto le tendenze su Twitter delle emoji, velocemente, l'utilizzo è aumentato, eccetera, eccetera. L'emoji più utilizzata è quella che ride, poi quella che piange e poi altre. Vi dicendo, il cuoricino è solo in quarta posizione. Ma vi voglio portare le tendenze che ci sono state in esplosione. Quali sono state le emoji che sono esplose di più? Quella che è esplosa di più è quella praticamente dove si sbadiglia. Beh, poi c'è quella che fa col diti ce l'hai piccolo. In seconda posizione c'è quella... ce l'hai in italiano? No? Come la intendete? Cioè, no. Vabbè, ognuno... Passiamo un'altra cosa alle immagini che voglio segnalarvi. Voi lo sapete che c'è ogni tanto il contest della foto dell'anno fatto dagli Instagramers, del gruppo, eccetera, eccetera. E ho vinto la foto. Questa foto, per chi non ha la possibilità di vederla, la racconto. Praticamente ci sono due persone a vasto che sono su due balconi che hanno una distanza notevole e durante il periodo del Covid, nel primo periodo del Covid, di lockdown, i primi di maggio, che cos'è che hanno fatto? Ci sono passati il caffè, uno ha una tavola di legno in mano, l'altro ha una, probabilmente, di plastica col caffè, ci sono passati il caffè tra la finestra. Questa immagine ha fatto davvero il giro del mondo, lo possiamo dire, è certificato, perché è finita in più telegiornali, un po' dappertutto. Per raccontare un po' chi l'ha definita, che noi italiani abbiamo la gioia dentro, eccetera, eccetera. Che cosa ci insegna questa cosa? Perché ve la sto portando? È molto importante. Lui, il fotografo che l'ha fatta, Costanzo D'Angelo, l'ha postata il 2 di maggio. Aveva fatto 7000 like, vabbè, questi numeri non ci interessano. Aveva fatto per le sue foto, buono. Poi, lui ha fatto tutta una serie di altre foto con i dettagli. Si vede il primo signore che gli passa sulla tavola la genialità italiana. Su una tavola gli passa il vassoio di plastica con il caffè. Lui prende il vassoio. Quindi, più dettagli. Poi, ad un certo punto, lui riposta la foto anche con il logo, perché con i suoi credits, perché si è accorto, praticamente, della visibilità, eccetera, eccetera. E, insomma, fa un buon lavoro di racconto. Ora, questo esempio, secondo me, ci dice due cose importanti. Uno, che le immagini non raccolgono solo quello, possiamo dire, quello che si vede e dice ah, che bello questo panorama. Ma raccolgono un sentimento. Un sentimento che è molto profondo, ovviamente. Quindi, non solo il significato dell'immagine, ma anche quello che stai vivendo in quel momento lì. Questa foto, in questo periodo, cioè, è complessa la faccenda. Quindi, è importante. E poi, lo storytelling dietro la foto. Lui ha continuato a postare cose sulla foto, ci sono stati articoli dei giornali, eccetera, eccetera. Quindi, un'immagine, pensate quanto può avere eco. Non è un caso particolare. Certo, è un caso supervisibile, eccetera, eccetera. Però, si può fare queste cose. Si può fare, secondo me, è importante. Quindi, volevo riportarvela per questo motivo. Ma ora, entriamo nell'altra parte. La parte social. Velocemente, cosa è uscito di importante? Su Google Maps sono uscite le valutazioni medie e un social network. Ne parliamo giovedì, non mancate. Quindi, è importante. Su LinkedIn sta arrivando LinkedIn salary. Tutte e due sono segnalate da Fabio Antichi, che ringraziamo per il lavoro quotidiano che fa sempre su Connect e non, ovviamente. LinkedIn salary è interessante perché ti dà i dati, praticamente, delle retribuzioni sulle varie posizioni lavorative nel mondo e nei vari paesi. Quindi, posizione geografica, anni di esperienza. È un tool, sarà un tool, secondo me, molto, molto importante. Telegram. Il sondaggio che vi ho postato su Fast Forward di Telegram, che l'ho condiviso da Progress Telegram, voglio mostrarvi perché ha 600, quasi 700 voti. Quindi, inizia a diventare bello. Che cosa vorrebbero le persone da Telegram? Il primo votato è le videochiamate di gruppo. Poi, secondo, che è quella anche che ho votato io, è la condivisione dello schermo e supporto remoto. La creazione di pulsante nei canali e gruppi senza l'ausilio di bot. E, infine, io avevo votato, vabbè, avevo votato la diretta, ma quella che ha vinto è visualizza chi legge i messaggi di gruppo, che non so che cosa te ne fai, ma vabbè. Può essere interessante, io ve lo consiglio, questo canale, per chi segue Telegram, eccetera, eccetera. Vi volevo portare il sondaggio per farvi capire che cosa vogliamo, per far capire cosa vuole la community. Altra notizia nel mondo dei social, che avevo aperto così questa cosa qui, l'engagement alert nei gruppi. Se sei un amministratore di gruppo, stanno per arrivare, l'ho segnalato Matt Navarra, gli engagement alert, cioè tu puoi settare un alert per una parola o per una determinata quantità di commenti. Quindi puoi avere degli alert. Per i gruppi molto numerosi, è lì che Facebook sta puntando ai gruppi, ai gruppi, ai gruppi da anni, lo dicono tutti, per i gruppi molto numerosi diventa veramente fondamentale questa cosa. Ma ora entriamo nell'angolo del futuro. Vi ho detto che Zoom è l'attacco di Google. Perché? Perché Zoom c'è uno dei rumors che sta iniziando a sfidare sia Google che Microsoft con cosa? Con un servizio email e con un'app calendario. Questo diventa importante, questo diventa molto importante. E credo, credo che da Google si siano persi un buon treno e anche quelli di Microsoft, Google ha perso un sacco di treni con YouTube, con tutta la parte delle live, eccetera, eccetera. E qui, e qui incominciamo, non che sia utile, non che sia così tanto pericoloso nel breve, ma nel lungo potrebbe diventare interessante. Quanti sono stanchi di Gmail, account e roba varia? Ora, Zoom, nell'aumentare la qualità del proprio servizio e più che altro il valore economico del proprio servizio, andando a fornire email e calendario che diventa tutto integrato per quello che l'utilizzo di Zoom potrebbe essere una buona mossa. Io non ci credo tantissimo, ma potrebbe diventarlo. La cosa molto interessante che volevo portarvi è che non solo Zoom lavora per aumentare i propri servizi, ma guardate cosa ha combinato Google. Guardate, l'ha segnalata Alessio Pomaro, il servizio subscription solo in America, dove praticamente va a includere e ad ampliare tutti i servizi di Google mettendoli in un unico posto. Cioè, tu paghi una cosa e incomincia ad avere più cose. Quindi, perché l'ho messo nell'angolo del futuro queste due robe? Perché lo stiamo vedendo. Le grandi aziende si stanno muovendo sempre di più nei servizi di sottoscrizione a pagamento. E anche Zoom ha una sottoscrizione a pagamento. Anche Google, stiamo parlando di due livelli differenti, Google è un'altra roba. Però stiamo sempre di più, stiamo sempre di più muovendo verso quelle che sono appunto le sottoscrizioni a pagamento. E, nell'articolo poi che Alessio ha linkato, mostra come all'interno di Google ci sono la musica, il gaming, lo storage, la fotografia. C'è veramente di tutto. E quindi sta iniziando a diventare importante, molto importante, quello che è appunto la sottoscrizione a pagamento, l'aumento del valore economico anche di questi servizi. Perché ricordiamoci una cosa, Google costa tanto. Se voi andate a vedere l'abbonamento a YouTube, ti costa come una TV anche di più. perché in America hanno altre tipologie di servizi. È un'altra scalabilità. Quindi è importante. Secondo me è importante che ce lo diciamo ed era importante mettervelo qua perché credo che sia sempre e sarà sempre più determinante questa cosa. Le sottoscrizioni come abbonamento ormai è un trend importante. Ma finiamo non con la nerdata, non con la risorsa che ci arriviamo dopo, ma con il piccolo approfondimento sulla SEO. Perché questo? Perché voglio portarvi questa cosa. Si era detto che il 2020 sarebbe stato l'anno della privacy. Ne hanno parlato in tanti. Per un certo punto lo è stato, ma poi evidentemente è stato l'anno delle video call. Il World Street Journal dice che il video chatting è diventato tra i più importanti. C'erano i veri servizi, appunto Zoom, Google, eccetera, eccetera. Ma ecco, vorrei fare un approfondimento SEO su questa cosa perché credo che sia importante. E a margine io vi voglio segnalare un servizio che ho trovato utile. Si chiama Trendstastic. Ci ho messo quei 3-4 minuti a imparare a pronunciare questa cosa. È un servizio che sulle tendenze su Google ve lo mostro così per chi può vedere è più facile. Però quando voi cercate una parola chiave all'interno del motore di ricerca in alto vi mette il box all'interno di Google vi mette il box di quanto è cercata quella parola. Tendenze. Mode. C'è un aspetto importante da trattare che è questo. Voglio fare una carezza a tutti i webmaster e i webmarketer che hanno pensato che siccome a marzo c'è stata una determinata esplosione di una chiave beh allora ci sarebbe stata di nuovo a ottobre. Una carezza nel senso che hanno provato a fare chissà che cosa per posizionarsi. Ma voglio darvi due verità assolute sulle tendenze che sono molto importanti. La prima verità assoluta è che le persone non hanno cercato lo vediamo non hanno cercato con la stessa intensità di prima lo stesso volume di ricerca ed è importante questo e sapete perché? Perché siamo esseri umani abbiamo una qualità fantastica che è l'apprendimento cioè noi impariamo quando noi cerchiamo qualcosa su Google noi impariamo poi non è che la ricerchiamo di nuovo cerchiamo delle cose più approfondite e la seconda verità che è dura da mandare giù per tanti è che una chiave generica non significa che la persona che la sta cercando è un ignorante guardate che questa cosa è gravissima pensare questa cosa da web marketer se uno cerca lievito non c'è da prenderlo in giro e nella chiave generica se uno cerca zoom non c'è da prenderlo in giro nella chiave generica ci sono tanti intenti c'è l'intento magari di una persona che non conosce e vuole scaricarlo ma c'è anche solo cercando zoom o anche cercando Berlusconi o anche cercando lievito o anche cercando pizza qualsiasi cosa una percentuale di persone che vuole altro per esempio le notizie io cerco zoom per avere le ultime notizie perché so questo è importante ficcatevelo in testa perché so che su google trovo le notizie anche con la chiave generica guardate che in tanti sono troppo concentrati sulla chiave non su cosa c'è nel risultato di ricerca molti sfruttano la barra di google perché sanno cosa c'è è un intento completamente differente lo sfruttano anche come navigazionale voglio andare sul sito zoom perché devo cliccare sul browser ma qual è zoom.us .it qual è vado su google l'intento cambia nel tempo quindi se a marzo zoom era il 100% facciamo il 100% l'80% che volevano scaricarlo è il 20 news oggi questa percentuale è cambiata con nuovi intenti infatti Perché se vai poi nello specifico delle chiavi e ti fai ad analizzare marzo, le persone che cercano in aumento zoom per pc, zoom cloud meeting, questo è scusate, marzo, cloud meeting, download, videochiamata, meet in italiano, download gratis, join, meeting pc, join meeting zoom, non sanno come fare, download italiano. Se lo vai a cercare a ottobre, sì ci sono scaricare, come scaricare zoom sul pc, la piattaforma, come funziona e incomincia a diventare un po' più specifico, sfondi di zoom perché prima non c'erano, come creare una riunione e tante altre cose. Non solo l'intensità è differente ma gli intenti sono molto di più perché siamo diventati più esperti, queste sono verità sulle tendenze SEO che si possono applicare a youtube e tante altre cose. Non pensate che la stessa ricerca perché è periodica, perché succede qualcosa, rimane con la stessa intensità e con lo stesso intento, cambia, cambia, sempre e costantemente. Quindi questo, ficchiamocelo in testa perché è fondamentale. Ora, ta-da-da, nerdata della settimana. Su Twitter, poi arriviamo alla risorsa, su Twitter se voi cercate, vi metto il link, twitter.com slash search meno advanced, andate nella ricerca avanzata. Nella ricerca avanzata, non so quanti di voi sono a conoscenza di questa cosa, potete filtrare, togliendo le risposte, quindi non voglio tweet di risposta ma solo tweet nativi senza risposta, e solo quelli con i link. Poi gli posso dire, sai che c'è? Dammi quelli che hanno avuto almeno mille mi piace. Ho più di 50 retweet, non lo so, minimo di 50 risposte. Quando? Guardate cosa succede, gennaio primo del 2020. Mi posso fare l'analisi dei link, che poi non sono solo link, di tutto il 2020. Quelli più discussi, posso aumentare il limite anche. Ora vi mostro questa cosa, 2020, ok, da gennaio. Guardate, mi mostra i popolari, quelli che trova lui con tutte le cose. Guardate che bello, ora se vi piace ovviamente il contenuto che c'è, per beccare cos'è successo quest'anno, posso limitare il periodo. E poi da qui potete aumentare o diminuire senza rientrare nella ricerca. Andiamo a mettere 10.000, per esempio, no? Facciamo invio, eccolo qua. E mi dà, vedete? In lingua posso mettere anche italiana, ovviamente. È veramente, veramente una cosa molto interessante. Ma finiamo con la risorsa della settimana. È un file data studio condiviso da Leida Solis per Screaming Frog, molto più utile di tanti altri, perché praticamente abbiamo tutto qua dentro, si può fare un report preciso delle varie cose, per esempio il Canonical, posso andare a guardarlo sul data studio, molto più efficace in termini visuali di quello che mi potrebbe servire, con tutti i vari filtri. Pensate voi quanto è bella questa cosa. Facile, veloce, sempre aggiornato. Credo che sia veramente, veramente bello. Siamo arrivati alla fine, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa puntata, cosa ne pensate di delle notizie, quella che vi ha colpito di più. Mi trovate sia su Telegram, ma sia sulla newsletter. Mi raccomando, la newsletter che è georgiodalverniti.substack.com per chi vuole seguire, connect.gt. Invece sono community manager. E per tutti quelli che sono arrivati fin qua, o a giovedì. La frase, la frase è a giovedì. Magari la potete mettere alla fine del commento, non solo all'inizio, perché, no? Per camuffarla un po' a giovedì. Così è proprio un messaggio in codice che non capiscono proprio tutti. Provate a camuffarla, mettendomi un commento per quello che vinte. Poi se non volete mettere niente, mettete solo a giovedì. Così uno dice, giovedì, che succede? A giovedì esce il video, qui ve lo dico per chi arriva fino all'ultimo, così non lo sanno nei commenti. Sui social di Google, Google ha tanti social, tre social, ma vediamo cosa cambia nella consulenza e nelle competenze da acquisire. Sarà un video, secondo me, molto interessante. A giovedì!